Sostenere le donne in travaglio di parto e aiutarle nella gestione del dolore è uno degli obiettivi principali dell'assistenza ostetrica. Nel contesto dell'ospedale Bufalini abbiamo avuto la possibilità di creare uno spazio nuovo dove la donna potrà usare l'acqua con l'immersione in vasca. Se la donna entra in vasca quando il travaglio è ben avviato, l'immersione in acqua dà molti benefici, sia per la gestione del dolore, perché il dolore viene percepito molto meno, sia per quanto riguarda l'evoluzione del travaglio. L'utilizzo di questa vasca ovviamente è permesso e consentito durante il travaglio, ma nel momento in cui il parto si avvicina, la donna verrà comunque trasferita all'interno del punto nascita e quindi in una sala parto. Per il parto in acqua siamo in attesa di poter avere un ambiente adeguato e una vasca da parto all'interno del nostro punto nascita, perché la nascita in acqua è una nascita che merita di essere garantita alle donne che si rivolgono alla nostra struttura.